Ciao, sono Gianluca Mari, fondatore della Mari Team Immobiliare. Oggi vi racconto come il metodo Mari ha rivoluzionato il mercato immobiliare. In Italia i tempi medi di vendita sono di almeno sei mesi, lo sconto medio è di oltre un 10% e un immobile su tre resta venduto. Il metodo Mari si fonda sull'home staging, strumento di marketing immobiliare statunitense da risultati straordinari e pone rimedio all'errore più comune delle vendite immobiliari, ossia la mancata preparazione e valorizzazione delle abitazioni messe sul mercato. Home staging accorcia sensibilmente i tempi della permanenza degli immobili sul mercato, sia per la vendita che per la locazione. Si può applicare a ogni tipologia di immobile, indipendentemente dalla sua condizione, fascia di prezzo, metratura e ubicazione. L'abitazione adeguatamente allestita è in grado di creare la connessione emotiva con i potenziali acquirenti, non genera obiezioni e soprattutto lavora sulla percezione del valore della proprietà e ciò consente di vendere in minor tempo e alle migliori condizioni. Siamo il primo brand italiano che prepara e valorizza tutti gli immobili in vendita. Ci avvaliamo dei migliori professionisti nel settore del home staging. Senza alcun costo aggiuntivo, ha tutto vantaggio per il cliente.